Nelle ultime ore in Sicilia sono stati ritrovati due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Attualmente sono in corso i lavori di bonifica con l'ausilio degli artificieri. Il primo è stato individuato ieri sera ad Acate, lungo la strada provinciale 87, e dovrebbe trattarsi di un proiettile di mortaio inesploso. Con un'ordinanza del sindaco di Acate la zona è stata chiusa. La zona del ritrovamento non è distante dalla zona costiera dove nel luglio del 1943 sbarcarono gli alleati tra Scoglitti, Marina di Acate e Gela. Il secondo ordigno è stato ritrovato a Caltanissetta in contrada Favarella. A scoprirlo il proprietario di un campo che stava facendo lavori di aratura.